In Abruzzo torna a registrarsi un decesso per Covid-19, cosa che non accadeva dallo scorso 28 luglio. La vittima è un uomo di 76 anni, di Castiglione Messerraimondo, che da sabato era ricoverato all'ospedale Mazzini di Teramo, trasferito da quello di Atri dopo la scoperta della positività al coronavirus. Il 76enne, secondo quanto riferito dal sindaco del comune terramano della Valfino, Vincenzo Tercole, aveva già un quadro clinico grave pregresso, soffrendo anche di insufficienza renale. Così sale a 473 il numero delle persone morte per Covid in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Nelle ultime 24 ore si registra un solo caso di nuova positività al coronavirus, un uomo di 79 anni della provincia di Pescara, a fronte di appena 106 tamponi processati. Il numero complessivo dei positivi dall'inizio dell'emergenza è 4.016, nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2.966 dimessi guariti, più 2 rispetto a ieri, di cui 15 che da sintomatici sono diventati asintomatici e 2.951 che sono risultati negativi in due test consecutivi. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 577, meno 2 rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 175.960 test. 41 pazienti, dato invariato rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 4 più 1 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 532, meno 3 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. In base agli ultimi riallineamenti del totale dei casi positivi, 557 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, meno 1 rispetto a ieri, 947 in provincia di Chieti, più 1 1737 in provincia di Pescara, più 3 742 in provincia di Teramo, dato invariato, 30 di fuori regione, dato invariato e 3, meno 2 rispetto a ieri, per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.